ciao a tutti da Davide di audio costruzioni quest'oggi voglio farvi vedere le novità di audio costruzioni sono sempre io visto che ce ne sono tante non sto a fare proprio una video vendita ma semplicemente vi spiego quello che è arrivato e quello che tratto di nuovo ultimamente bene andiamo avanti allora partiamo da questi diffusori che sono veramente molto molto interessanti sono delle alison sono le al 125 t che cosa hanno di bello il medio a cupola bella bello grosso che suona bene un altro medio e qua dentro troviamo due sub da 8 pollici uno contro l'altro quindi sono diffusori che nonostante le dimensioni piccole danno molto cioè proprio belli belli rotondi e siamo attorno ai 500 euro ho preso come come distribuzione rivendita non distribuzione rivendita la fostex perché era una ditta che mi piaceva e ho preso alcune cose e su ordinazioni posso averle tutte per esempio queste sono le gx 100b che le vedete qua no e dopo ci farò una recensione completa su queste qua perché sono strepitose che praticamente sono le antagoniste delle 3 barra 5 no molto pesanti voi vedete un vufferino piccolo comunque suonano suonano davvero bene vedete dietro comunque come vi dico gli farò una recensione completa e hanno un costo di listino di 1900 euro da scontare poi andiamo avanti altra cosa molto molto interessante che mi è arrivata giusto ieri da noi le dc10t sono diffusori che al tempo qualche anno fa costavano 8 mila euro sono ancora ancora in produzione ci sono c'è l'evoluzione delle dc t che si chiamano sempre nella stessa maniera e sono identiche hanno fatto qualche miglioria comunque erano diffusori che costavano 8 mila euro questi suonano in maniera strepitosa vi consiglio di venirle ascoltare e siamo a 3.700 euro ma questi li consiglio da matti anche queste mi sono arrivate ieri sono le tannoy le stirling bellissime con l'imballo non hanno un microsegno sembrano veramente nuove 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 2700 euro ok mettete i boi lì così che finì siamo sempre in evoluzione una cosa carina che abbiamo fatto è questo piatto qua un piatto in plexiglass da 15 mm no per il rega questo rega p2 ma va bene anche per il rega p3 che differa a parte che il p2 per esempio questo aveva questo piatto qua che era veramente molto molto più brutto oltre a essere ben diciamo ammortizza benissimo le vibrazioni poco risuonante il plexiglass è bello esteticamente perché diventa un bianco chiaro sarà un accessorio che metteremo fuori ma così più per divertimento che per altro attorno attorno gli 80 euro ma lo troverete sul sito qua abbiamo sempre letta noi vedete come sono anche dentro con il sportellino aperto come sono belle poi avete già visto che tratto focal e presto farò la recensione completa di queste qua che sono il modello pa 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 le 936 che hanno un costo di listino di 2.990 poi ci sarà il prodotto nuovo con garanzia e a differenza del modello con i woofer più grandi questo qua l'ho notato ho notato che è veramente velocissimo come tipo di suono gran diffusore ma ne parleremo bene a suo tempo altra cosa che è arrivata questa è una chicca che la vedete lì dietro è il sonus faber musica con la rifinitura in legno un ampli da 100 watt era numerato edizione numerata suona veramente bene soprattutto con le sonus faber e siamo a 1.450 mi sono rientrati anche i luxmann m03 c03 questi sono strepitosi non ricordo il prezzo lo trovate sul sito un pre finale con 200 watt ma veramente veramente molto molto muscolosi altre due cose onchio vlsc no scusate vl 5c è un integratino che suona da dio lo trovate a prezzi folli anche delle volte in germania che negli stati uniti l'ho messo fuori mi pare sotto i 500 euro con l'imballo e quant'altro altra cosa che mi è arrivato sempre ieri synthesis un bel integrato che ancora devo fargli il prezzo torrens 126 mk3 bellissimo veramente un bel oggetto con anche il coperchio funzionante che è una cosa rara il prezzo lo devo ancora fare marans pm 7002 torni 300 euro mi pare questo è un bell'oggetto era una bellissima serie questa della marans poi 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 ecco qua va bene niente ve lo faccio vedere di là quello lì perché sono le snell type d queste sono molto interessanti le martin loga sono quelle piccoline però con 1300 euro vi comprate una coppia di diffusori che suonano benissimo la voce il jazz lo riproducono veramente molto ma molto bene vieni vieni figlio vieni pure accompagnami allora mi sono arrivati anche due sub molto interessanti uno è quello dell'advance acoustic la serie cubic a 340 mi pare pesantissimo poi nero laccato questo fa un bellissimo effetto e suona molto molto bene per chi vuole spaccare tutto c'è anche questo qua della della servin vega potentissimo 350 watt è più o meno il prezzo è quello lì a toni 350 euro usato con l'imballo di listino mi pare che eravamo attorno ai 900 euro altra cosa che mi è entrata molto molto interessante sonus faber parva fm 3 saremo attorno ai 900 mille euro belle tutte in noce proprio una gran bella coppia di diffusori vediamo un po sempre quello che mi è arrivato dall'altra volta ciario le 516r adesso cade tutto ecco qua sono belle mi pare attorno ai 450 vieni pure filo seguimi ecco quello che vi dicevo delle fostex ho preso anche le gr 160 che sono un po più grandi rispetto a quelle che vi ho presentato prima ma sono di fascia un pochino più basse siamo attorno ai 900 150 euro da scontare poi 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 ecco qua non so spero che si veda le snell type d no bellissime in conto vendita allora parliamo di snell type d no veramente in perfette condizioni sembrano nuove 1450 questi sono diffusori che suonano bene questo l'avete già visto tante volte questo diciamo armadio pieno di cose più di cose belle meno belle normali questa è la fissa del fratello di mia moglie che gli è venuta con questi specie di registratore no questo è molto molto carino è una specie di pil degli anni 80 no mette registratore play e c'è anche l'entrata mi pare boh qualcosa attorno ai 100 euro poi dopo ecco qua c'è della roba bella che vale la pena allora sono sfaber sono le mi ricordo più le concerto siamo a 1000 euro tenute benissimo benissimo questo qua è il nuovo stabilizzatore svc 3000 che gli abbiamo fatto un pannello anteriore in legno fatto un pochino bene per abbellirlo un po presto lo trovate sul sito anche con le foto i prezzi e quant'altro e questo è mio questo è un giradischi mi è capitato questa base in plexiglass e ho fatto fare ve lo faccio vedere questo in plexiglass adesso qua c'è il bianco ma viene poi via no per fare un mio giradiscone no non so se lo venderò ma sarà difficile poi andiamo avanti oggi un amico mi ha portato un sacco di riviste ai fai ok per esempio questa qua su tutti i torrents bellissima va bene sono qua a disposizione dei miei clienti se uno vuole vuole leggersele molto molto volentieri poi dopo qua mio figlio filippo che ogni tanto ci litighiamo ma nel senso buono che sta costruendo questo base per giradischi ok è lì che inquadra e per il torrents 124 in mogano dice che ci sta mettendo molto tempo va bene comunque viene un bel lavoro adesso qua ha dato solo un olio che fa un po da mordente comunque è veramente massiccio faccio vedere bene per torrents 124 posto altre cose che sono arrivate sempre in questi giorni addirittura questa mattina advanced acoustic k7 belle hanno due vie davanti più il buferino di fianco da mi pare 250 il prezzo lo devo ancora fare queste suonano bene per chi gli piace il suono bello caldo sono veramente molto molto interessante altro diffusore che suona bello bello caldo e questo qua sono le indiana line le diva 665 me l'ha portato un mio cliente che glielo avevo venduto io nuove sono immacolate cioè è come che diciamo uno le comprasse dalla fabbrica 880 con gli imballi e quant'altro anche queste suonano belle calde riempiono molto bene l'ambiente altra cosa che mi hanno portato da tenere in conto vendita questo è un national panasonic il 1000 è praticamente un technics un bel giradiscone mi pare attorno ai 1600 questi sono molto 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 quotati bene per adesso questa sfara infarinata direi basta un saluto da davide di audiocostruzioni se avete bisogno di qualt'altro chiamatemi